Una paura incontrollabile per il virus e la necessità di avere sempre la situazione sanitaria sotto controllo la spingeva a fare in continuazione tamponi anti-covid. Un'ossessione per una 28enne padovana, protagonista di un litigio furioso con il compagno. Le urla della coppia sono state sentite dalla madre della giovane, che vive nello stesso condominio e che ha avvertito subito la polizia. Quando gli agenti sono intervenuti hanno dovuto sedare la lite accesa tra i due conviventi, scoppiata quando la giovane donna ha detto al compagno di voler fare l'ennesimo screening anti-covid. La pandemia ha accentuato l'ansia della ragazza già ipocondriaca e questo suo stato di agitazione l'ha spinta al litigio con il compagno. La polizia ha riportato la calma tra la coppia.